Come Corecom abbiamo subito indetto questo bando e questo premio legato proprio al tema delle dipendenze digitali, crediamo un tema di grande attualità, di grande importanza che riguarda le nuove generazioni ma riguarda in generale un po' tutte le generazioni. Il tema del contrasto alle dipendenze in rete dai social network ai videogiochi è protagonista del progetto Toscana InSpot 2023, indipendenze digitali promosso dal Comitato regionale per le comunicazioni. Per partecipare al bando c'è tempo fino al 15 settembre. Ci sarà la possibilità di partecipare attraverso dei video della durata massima di 60 secondi dove i giovani, ma non solo i giovani, potranno partecipare ed esprimersi attraverso il proprio linguaggio, attraverso il linguaggio audiovisivo proprio su questo tema. Crediamo che sia un tema di grande attualità perché insieme alle grandi potenzialità dei video, dei social, della rete, poi c'è anche un tema di sovrautilizzo, di abuso di questi strumenti. Per cui noi vogliamo consentire di mettere al centro di attenzione questo argomento attraverso questi video che poi faremo girare. I primi tre saranno premiati con alcuni premi economici di 5.000, 3.000 e 2.000 euro che poi faremo girare sia attraverso i canali social, sia attraverso le televisioni, sia ci auguriamo anche attraverso gli ambienti delle scuole. È un modo per dire alle ragazze e ai ragazzi anche i rischi connessi all'utilizzo, al sovrautilizzo dei social network. La pandemia ci ha resi tutti più iperconnessi. Ci sono tanti punti di forza, la possibilità di lavorare a distanza, la possibilità di sfidare il futuro, ma ci sono anche tanti rischi. Ed è bello sapere che questa iniziativa tende a premiare i tre progetti migliori che possono mandare questo messaggio. Allora l'educazione digitale, l'educazione civica è un pezzo del lavoro dell'Assemblea Legislativa. L'obiettivo è far conoscere quanta storia, quanta bellezza, quale biodiversità ci sia nei nostri parchi. La Toscana è terra di arte, terra di storia, è terra di cultura. È una terra che è in grado di far conoscere la propria bellezza attraverso le coste stupende, attraverso le città d'arte, attraverso i borghi più piccoli, ma anche una storia di parchi naturali molto molto importanti. Questi sono luoghi del benessere, sono luoghi ricercati ormai in tutto il mondo. Allora noi abbiamo deciso, quest'anno come Assemblea Legislativa, lo scorso anno l'avevamo fatto per i piccoli borghi, quest'anno abbiamo deciso di sostenere, far conoscere quanta bellezza è il valore dei nostri parchi naturali. Tre parchi nazionali, Arciparego Toscano, Appennino, Tosco e Miliano, Foreste e Casentinesi, tre regionali, Maremma, Migliarino e Sarossore e Massaciuccoli e Alpi e Apuane. 35 riserve naturali statali, 47 riserve naturali regionali. Circa il 10% del territorio regionale in Toscana per una superficie di 230.000 ettari è coperto da parchi e aree protette, un patrimonio di verde che adesso la campagna, promossa dal Consiglio regionale, vuole ulteriormente valorizzare. Estate 2023, la Toscana dei Parchi è l'iniziativa realizzata in collaborazione con Visit Toscani. Sui profili social del Consiglio regionale, fino al 10 settembre, una serie di foto dei parchi e delle riserve, panorami mozzafiato, pianterare, animali indisturbati nel loro habitat e molto altro. Perché i parchi non sono degli enclave dove devono essere solo guardati, adorati, devono essere vissuti, perché se si vivono e si condividono si rispettano. Per cui noi abbiamo fatto questa rassegna a Vivi Parco, abbiamo portato circa 2.500 persone a fare gli eventi all'interno delle varie location nel parco e stiamo aprendo dei nuovi sentieri, perché questo secondo me è il futuro. Potenzialità nello sviluppo turistico della nostra regione, perché i parchi sono capaci di diversificare l'offerta di arte, di paesaggio tipicamente toscana, incrementandola e mettendo insieme anche un'offerta di natura, un'offerta ecologica. È un tipo di turismo estremamente attuale, non solo perché avvicina e sensibilizza le persone a temi importanti come quello della transizione ecologica o dei cambiamenti climatici, che sono aspetti che vengono tipicamente affrontati all'interno dei parchi, ma sono molto importanti perché rappresentano anche un'offerta turistica sociale, perché i parchi sono un luogo abbastanza economico per vivere il mare, per vivere la montagna e quindi in un momento di difficoltà come questo i parchi svolgono un ruolo e le aree pubbliche svolgono un ruolo essenziale nell'offerta turistica. Questa iniziativa è sicuramente importante anche perché la Toscana svolge un ruolo importante all'interno del sistema delle aree protette italiane, ci sono tre parchi nazionali, l'arcipelago toscano, le foreste casentinesi e il tosco emiliano, poi ci sono dei parchi regionali importanti come la Maremma per esempio e come anche San Rossore che è stata anche tenuta presidenziale, abbiamo un parco, un geoparco come quello delle colline metallifere, quindi abbiamo tutti gli ambienti da quelli montani a quelli costieri, litoranei e quindi degli ecosistemi davvero importanti che fanno della Toscana una punta di diamante del sistema aree protette italiano. Noi vogliamo non tanto descrivere l'Elba che è conosciuta dalla maggior parte delle persone per la sua bellezza, le sue spiagge, ovviamente anche quello, ma vogliamo raccontare anche l'anima dell'isola d'Elba e raccontarla in ogni stagione perché noi crediamo che il sapore dell'isola si senta soprattutto in primavera, in autunno, in inverno quando l'isola ritorna alla sua vocazione naturale che è quella proprio appunto legata alla bellezza, alla storia ricchissima, al suo paesaggio, alla sua biodiversità, alla sua geodiversità, insomma alla sua unicità e questo vale anche per le altre isole dell'Arcipelago, sono davvero sette perle del Tirreno. Presentazione in consiglio regionale di Enjoy Elba in Toscana Archipelago, il magazine che racconta le bellezze delle isole toscane. Questo racconto che vede in Enjoy Elba una tassella di un mosaico molto ampio diventa determinante per convincere le persone nella fase di ispirazione di viaggio, nella fase di inspiration a conoscere e anche durante il viaggio la straordinaria opportunità di questi strumenti è quello di raccontare le tante cose che si possono fare in un territorio e che spesso producono un effetto wow, un effetto sorpresa continuo perché la meraviglia della Toscana e del suo Arcipelago in questo caso comportano queste reazioni. Promuovere sempre di più i territori isolani in un'ottica spiega l'editore e direttore di Sintour non solo di sviluppo ecosostenibile. Una visione che vuole il turismo rurale come terzo pilastro del turismo italiano. L'Italia è una realtà che è stata per tutta la sua storia prima destinazione di turismo al mondo, oggi non lo è più, continua a perdere competitività e questo dal nostro punto di vista è determinato dal fatto che lavora con due soli prodotti turistici, Balneare e Città d'Arte. Cioè è tempo di renderci conto che dobbiamo fare un salto di qualità, uscire dalla visione novecentesca del turismo di massa e immaginare di accompagnare i territori e questo vuole fare anche Enjoy Elba e questo vuole fare Sintour, accompagnare i territori verso un'evoluzione. Alla presentazione ha preso parte il consigliere regionale Marco Landi. Perché crediamo che la promozione del nostro territorio e delle isole della Toscana rappresenti un momento importante, siamo nel piano della stagione turistica ma dobbiamo già pensare al prossimo anno, ai prossimi anni il turismo deve essere programmato, dobbiamo sempre lavorare affinché da un lato la storia, la cultura, le nostre radici vengano rappresentate al meglio e questa rivista Enjoy Elba sicuramente lo fa non solo per la promozione del territorio ma anche per capire dove vogliamo andare e cosa dobbiamo fare dal punto di vista turistico per migliorarci. Un giorno importante per la nostra associazione perché finalmente dopo 15 anni di lavoro per la rivalutazione e la salvaguardia di questa razza ormai in estinzione fate conto che ad oggi si conta 400 capi in tutta Italia quindi l'associazione con tutti i suoi allevatori e i centri ipici che ci hanno dato una mano per far sì che questi cavalli poi avessero vari impegni nelle varie discipline equestri siamo arrivati a oggi ad avere questo diciamo riconoscimento. Una targa del Consiglio regionale all'associazione Cavallino di Monterufoli e Asino Amiatino per la preziosa attività svolta negli ultimi 15 anni in difesa della razza autoctona toscana Cavallino di Monterufoli è stato il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeva a consegnare il riconoscimento nelle mani di Michele della Pace, presidente dell'associazione. Allora innanzitutto è un cavallino prettamente toscano, le origini sono proprio bolgheri quindi più toscano che questo non esiste, nobili perché vengono da Conte della Gardesca e sono cavallini talmente frugali e facilmente diciamo a livello allevatoriale sono facilmente gestibili che avevano avuto purtroppo dopo la meccanizzazione una decadenza fate conto che dopo gli anni 30 se ne contava 10 capi. Abbiamo spiega già una decina di cavallini che andranno alle poniadi e si distinguono in varie discipline ma c'è un'altra particolarità. Il nostro vanto diciamo anche come associazione è averlo utilizzato tanto nella riabilitazione questre e questo ha permesso a tanti ragazzi di approcciarsi al mondo dell'equitazione con questi piccoli poni. Lo conferma anche la sindaca di Pomarance nel territorio comunale e la situazione svolge importanti attività sociali al centro ippico di Santa Barbara di proprietà delle comuni. Vengono fatti piani socioterapeutici utilizzando proprio l'accudimento dell'animale quindi il cavallino di Montorufoli è un simbolo di biodiversità ma anche di cura e sostegno quindi insomma sono particolarmente contenta e orgogliosa di essere qui oggi. Una realtà importante nel panorama toscano hanno sottolineato il consigliere Diego Petrucci e il presidente Antonio Mazzeo. Ancora il rischio di estinzione non è scampato però sicuramente si sono fatti tantissimi passi avanti per questo stamattina il consiglio regionale ha deciso di ringraziare l'associazione per la difesa della razza e il cavallino di Montorufoli per il poni italiano per l'attività svolta in questi anni. Il cavallo è un cavallo molto docile che per dimensioni si presta sicuramente a far iniziare i bambini ad andare a cavallo per l'ipoterapia, per tutta una serie di attività per cui si è rivelato essere anche, anche da un punto di vista competitivo all'altezza dei ben più famosi poni che magari costano però 20, 30, 40 volte in più. Questa è la nostra idea di Toscana, sostenere la biodiversità, fare in modo che razze come il cavallino di Montorufoli possano essere sostenute e possano tornare a crescere. Questo è un premio alla Toscana diffusa, alle nostre radici, alle nostre tradizioni e un premio all'impegno per una Toscana che sia sempre ambientalmente più sostenibile. Abbiamo mantenuto come la scorsa edizione le conferenze e i dialoghi, quindi gli ospiti saranno moltissimi. Cominceremo con Laura Boella che è la curatrice di questa edizione, proseguiremo nei giorni successivi con Stefano Massini, Alessandro Bergonzoni e Vera Gheno. Ho citato alcuni degli ospiti perché sono veramente tanti. Importante sarà anche il programma di spettacoli che prevederà la conclusione con Tiro Mancino. La prima sera cominceremo con Frida Bollani-Magoni. Tutti eventi a ingresso gratuito che animeranno per quattro giorni la città di Carrara. Sono alcuni degli appuntamenti della diciottesima edizione di Convivere, il festival che dal 7 al 10 settembre prossimi si svolgerà a Carrara. La nuova edizione è stata presentata in consiglio regionale, tema al centro delle riflessioni di quest'anno, l'umanità. Un festival realizzato grazie alla diretta partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e del Comune Apuano. Un tema estremamente sfidante che è umanità, quindi in tutte le sue variazioni. Affidato a una ricercatrice di ansiospessore, Laura Boella, con il sostegno perché queste cose non si fanno da soli. Noi abbiamo un comitato per il festival che comprende il Comune di Carrara, la Camera di Commercio, l'Accademia di Belle Arti e la Fondazione Marmo. Una squadra che ormai lavora insieme da sei anni e ha acquisito un'intesa importante. In più siamo riusciti a coinvolgere i tanti sostenitori privati. Sicuramente Convivere offre la città di Carrara un'occasione importante dal punto di vista culturale in primis, ma anche sicuramente da un punto di vista turistico. Quindi è un'occasione per poter visitare la città. Tra l'altro il festival intercetta anche occasioni di questo tipo perché sono previste visite guidate e visite ai nostri musei. Quindi alla diciottesima edizione possiamo dichiararci veramente soddisfatti del successo di questa manifestazione. Alla presentazione anche il consigliere regionale eletto nella provincia puana Giacomo Bugliani e la presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale. Un appuntamento culturale imperdibile che si è ormai imposto sul piano nazionale come uno dei festival più importanti per lo sviluppo della cultura e del pensiero. Gli orizzonti ormai che Convivere ha assunto sono orizzonti molto ampi che si ampliano e si aprono a esperienze anche molto al di fuori del nostro territorio e anche estere. Credo che sia doveroso da parte delle istituzioni dare a questo festival della cultura tutto il riconoscimento che merita perché ormai il nostro territorio si identifica in questa manifestazione che ogni anno riesce a toccare temi di grande importanza e di grande delicatezza. Meritevole questa iniziativa perché non rinuncia a sfidare una dimensione pop di grande pubblico con una riflessione seria, alta, profonda e non sempre facilmente praticabile. Questo coraggio rende loro onore e credo che dovrebbe essere fonte di ispirazione anche per altre manifestazioni. Grazie per la visione!